I commercianti pongono l'accento su temi che attanagliano un'economia fatta di imprese turistiche agonizzanti, così come di pubblici esercizi e negozianti in balia di continue limitazioni e restrizioni, considerate spesso come contraddittorie e speriquative. In momenti come questo, più che mai l'Unione fa la forza, serve per affrontare la gravità della situazione economica, chiedendo maggiore attenzione ai temi della montagna, di chi ci vive, ci fa impresa e ci lavora. C'è un discreto ottimismo tra gli operatori, o forse un desiderio di recuperare il tempo perso, soprattutto per le imprese che hanno avuto un'interruzione più lunga, addirittura un anno e mezzo quasi. Occorre prudenza ancora, ci vuole ancora il rispetto delle regole, vogliamo ripartire per non fermarci più. Nel chiedere una visione comune e strategica per la montagna, scevra delle logiche di partito, viene chiesto sia adottata una programmazione che abbia un'ottica di lungo respiro. Noi abbiamo due problemi. Il problema contingente è quello di adesso, del periodo estivo, e speriamo che il periodo estivo sia buono e perciò ci porti un po' di fiducia. Ma poi abbiamo l'autunno, l'autunno che obiettivamente è problematico perché nessuno sa cosa capiterà. Enormi le preoccupazioni legate a uno stallo economico che si spera possa essersi concluso. Il comparto dei pubblici esercizi è stato praticamente fermo da metà dicembre, mentre il non-food arranca avendo perduto oltre il 40% di fatturato. I problemi finanziari e di liquidità per molte aziende sono quindi rilevanti. Occorre pertanto essere prudenti e non credere che tutto sia risolto.